Che bello, che gioia, immensa, immensa, troppo bello, loro, loro siete fantastici, siete fantastici. Questo studento ha vinto per gran parte da loro per tutto il sostenuto dell'interno che è un paio. Un capitano è solo un capitano, un capitano è solo un capitano, un capitano è solo un capitano. Grazie, grazie di cuore, mi fate emozionare sempre, siamo una grande famiglia e credo che meritiamo questa festa perché abbiamo vinto un campionato. Grazie a tutti voi che sempre vi siete sostenuti, allora vi voglio bene, sempre Forza Inter, sempre, sempre, sempre. Inter si ama sempre. È sempre una grande emozione, il neato è sempre fiero, che dire, loro sono meravigliosi. Poi questa è storia importante perché questo è lo scudetto delle stelle, cioè corona tante stagioni. Cioè nel 1908 oggi tutti i personaggi che hanno contribuito a rendere grande questa società, insomma. Ma ricordo l'altro. Io credo che il mister, lo spazio, questo gruppo di giocatori hanno scritto una delle pagine più importanti dell'inter, meritatamente per il lavoro che hanno fatto. Estanno arrivando, il pullman è scomperto, è pieno di gioia e felicità. Non vedo l'olora di essere qui con voi, aspettandoli perché lo meritano, però grande merito è vostro. Forza Inter sempre, vi voglio bene. Grazie.